Ah, il protagonista! Cioè, è un film che noi decidiamo cosa fa il protagonista! Certo, grazie per il nome! Entro a fermare, palatino! Giochiamo ad un film! È un gioco stranissimo! Cioè, volevo provarli insieme a voi! Non so un cazzo, raga, me l'ha consigliato o me l'ha fatto vedere la mia ragazza! È tipo un film interattivo! Però non so come funziona! Nuova partita Aspetta, impostazioni Allora, lingua è italiano Ah, minchè, è italiano! Sotto dito l'acceso, volume e luminosità L'alziamo un filo, giusto per? Grazie, Enrico, per i quattro Non trovo per la male, palatino È interattivo con la chat o scegli tu? No, no, no! Scelgo io! Perché trovo poco tempo, mi sa Sì, sara, grazie per la sabbia Non trovo per la male, palatino! Control movie Ma che cosa succede? Sean? Sì, sì, vai tranquillo, Lodi È diventato Ocean's 12 Ma non era italiano Ma è a Londra! Riconosco la London lì L'accendino di Londra lì Ma non è grafica, è un film Oh, io mi rilasso, raga Io mi polleggio Io mi rilasso, raga Cazzo mene Mi polleggio qua, mi rilasso Altruista Eh, subito ho dovuto scegliere Sembra Squid Game Tabellone Cos'è il tabellone? Cos'è il tabellone? Ho perso il treno Eh, in italiano Nessun setto titoli Ma è stra-interattivo Fede, grazie per i quattro Ma non trovo per la male, palatino Sì, lo pubblico, sì È stra-interattivo Perché è proprio All right There's two cars out Quindi noi facciamo la guardia di sicurezza, tipo Quals'è il volume? Eh, adesso non so come si faccia Impostazioni È al massimo, raga Il volume è al massimo Non so cosa fa Lingua è italiano Ah, vabbè È al massimo, raga Il volume, mi spiace Quindi noi ti possiamo guardare di sicurezza Andi, sono arrivato Ora che gioco Eh, è un film Come sei seduto? Mi sono polleggiato Lodi, guarda Grazie per il cittadino È un gioco interattivo Cioè, è tipo un film interattivo Mi sembrava una figata incredibile Puttanella di metallo Ah, prova le auto fighe Perché non può permettersele Sì, ho un gioco dove devo solo cliccare Mi rilasso proprio al massimo Ah, che cazzo è questo No problemi No tip Immo ha, fuck Thank you Quel porco in abito da sera Ma lui è cattivissimo È horror No, no, no Dovrebbe essere d'azione Tipo thriller Cioè, non horror Thriller, credo Niente mancia Ti rigo la macchina, stronzo Un attimo raga Che devo sistemare il condizionatore Un secondo Se non riesco a non ammazzarmi Nel mentre, magari Eccoci qua, scusate Salve Lei è? Anche se è grafica da film Ma le riprese e tutto Non sono mica male No, 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 infatti Si vuole provare con me, signorina Guardi che io Cuco un sacco Figa la maglia, sì, è bella, è vero Dio, strontano Molto bella la maglia Signora, sono equazioni di secondo grado Posso aiutare, sony? Ah, ho bisogno di un favore Cioè, cosa vuole Ma in che senso, scusi Ma non sono di suo Sto studiando come fare l'influencer Perchè? Voglio sapere il perché Signorina vuole la macchina Me ne dia il 20% e gliela do Va bene, accettiamo Va bene 200 A fare fatto A fare fatto A fare fatto Ci siamo acchiappati 200 sterline Oh, mi sembrava, mi sembrava onesto La signora vuole rubare la macchina al marito Per andare a fare il tamarra Mini sterline Infrangiamo le regole Ma 200 Controlla le videocamere Come niente, oh, sei scemo Mi sto, chi è? C'è un ladro C'è un ladro Se è più basso oggi Mi sto rilassando C'è un ladro Nel, nel, nel Nel mio garage No, non la sento la musica del concerto Sono lontano da lì Oh, cazzo, armato Ma cosa fai? Mi spara, scusa Mi spara per niente Lascialo Lascialo Questo, questo ci spara Non rischiamo Non rischiamo Questo, questo In che senso, scusa Potrebbe essere anche una pistola finta Però non rischiamo Uomo, grazie e bella Siamo venuta la barra male Ah, sta male Ah, merda Potremmo anche Approfittare per Per, per colpirlo Se sta male Magari riusciamo a stenderlo Eh, guida Eh, non voglio morire Perché mi sa che si muore In sto gioco Corri Questo mi prende Secondo me mi prende Quindi per adesso guidiamo Poi voglio vedere dove Dove andiamo a parare Corri mi sembrava Troppo scontato Voglio vedere dove andiamo Che cazzo Siamo finiti Si chiama Non mi ricordo più All'Aid Chief Oh Dio ho paura Se dico no Non andare Ah no Pensavo che non andare Non andare Pensavo che Nel senso Non entrare in casa Scusami Non è stato da poco Oh Dio Si è spezzato un braccio E papere con Prime La sub è sempre gratuita Schippate le pubblicità Avete tutte le emoticon Sia su Steam Comodo Non ci lamentiamo Basta lo schienare No vado troppo indietro Se basta lo schienare Cosa nega No vado I don't know Non so I don't know who you guys are Or what you're up to Ok I'm not going to say anything To anyone It's not going to take you long To figure it out Is it Well no Not if you keep talking In front of me It won't It will be on the news Smart ass I'm not a murderer I don't intend to start now Pass me Difinoxian And a couple of cable ties Protesta Protesto Difinoxian What the fuck is that Eh, rimani fermo, che devo... cosa devo fare? E che devo fare? Sono in due, sono armati No, nel basamento no, eh, vi prego Non portatevi nel basamento Young, la ferma la sub, non te la farà male, palatino No, mi porta nel basamento Cosa si guadagno? Sfidala! Faccio questo, è finito! Almeno se devo fare il rapinatore, almeno che mi diano dei soldi, scusami Ragazzi, io ho iniziato da cinque minuti e sono già diventato complice di una rapina Si vede che lo sto giocando all'Andrea Style Lo sto proprio giocando all'Andrea Style Una rapina? Oh, non so se è una rapina o che cosa, perché in realtà non so cosa stiamo andando a fare Non ho proprio idea di che cazzo stiamo facendo Però mi dona il vestito, dai Cosa stiamo facendo, scusate, non è una rapina Eh, esatto Esatto Una loro ciotola Una loro ciotola? Minchia, è così diretto? Quindi dobbiamo sfidare la triade Vabbè ragazzi, ci sta, ero una guardia noturna, sono finito sequestrata e ora devo truffare la triade Ci ho serata ordinaria Studiare porta alla disoccupazione Va bene Sono d'accordo Certo Sì, credo che potresti vedere così Sì, magari hai un po' di rilevare alcuni di queste persone di una scuola di loro Cerchiamo di essere concordi per adesso, siamo complici, non è che possiamo fare gli stronzi Influencer vi like No ma che cazzo di unghie ha Quindi ci dobbiamo fottere una roba Ci hanno già notati, tia, però, siamo in pericolo Ci hanno già notati, c'è Eh, ma ci hanno già visto, scusami Mi hai detto che la sotto rilassa pure me, dovrei fare sempre le streaming così allora Eh, signora, non mi guardi così, cazzo vuole, ha ragione E la ciotola Cos'è la ciotola quella famosa Tutto sto casino per una tazzina Ah no, ok, ritiro tutto perché, insomma, porcellana Ming Ora la droppa Adesso la lancia Grazie 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 il povero con la Y i poveri quant'è il prezzo base? orcamadon orcamadon 2 milioni di sterline come prezzo base orcamadonska che cazzo 2 milioni ah subito a 3 direttamente a 3 milioni si rilancia neanche 2 e mezzo 4 4 4 4 4 5 eh che cazzo 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 5 5 5 9 9 9 5 5 Scusami, non te lo capendo. Ho sempre pensato al suicidio, però guardando le tue live mi sono piano piano ripreso, non potrò mai ringraziarti abbastanza. Oh patatino, ti mando un bacione e un abbraccio, grazie mille patato. E grazie a te per i cheer e per aver comunicato il messaggio. Che carino, grazie mille patatino. Sono contento, dai, l'importante è quello. Perché se questa posizione, perché mi sto polleggiando tantissimo, solo cliccare. 11.000, sto polleggiando. 11.000.000 di sterlini. 9.000.000 di sterlino. 11.500 2.500.000 di sterlino? 11.500? 11.500 l Ho, grazie mille, quanto c'è, ma 11.500 habe. Non ti troppo bene, ma 11.500 è s debituato. 11.500. 11.500 con ti, signor. E io intervengo Mi fido di lui, ha fatto un calcolo Statistico interessante, mi fido Lui deve essere un genio della matematica 11,5% Erano a basse le probabilità Però abbiamo fatto spendere soldi alla mafia cinese Quindi già per questo Ci sta Invece sì Andrà stravaccato come un vero streamer No, nel basamento Cioè, devo menare la guardia di sicurezza? Fai come ti ha detto Entriamo nel vivo dell'azione Andiamo a picchiare una guardia di sicurezza Che presumibilmente è alta due metri E pesa 140 kg Colpa mia, direi Si, finiamo sempre il basamento In un modo o nell'altro, comunque Qual è il piano? Eh, scusa Eh, scusa E quindi come faccio? Mi sono perso cercando i bagni E mica posso menarlo, scusa Meiling è quello della prima Metal Gear Penso abbiamo preso da lì Infatti no Stai al gioco, stai al gioco Stiamo facendo una rapina alla mafia cinese Eh, smettila di rompere i coglioni Ok, Matt, vai Questi ci ammazzano Se no, meglio stare al gioco Stop right there, sir This is a restriptive area What do you think you're doing down here? I got lost coming out of the lift No, it's a floor staff only Oh, I was, uh I was looking for the toilet No, you wouldn't come down here Unless you meant to Vabbè, questa guardia La potevo stendere anch'io Dai, avrà 96 anni Veloce, 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 veloce Veloce, veloce Aronito Grazie per il ciclo E' entrata a fermare Maratino Grazie, Aron, Maratino La situazione è incasinata Ma non possiamo lasciare testimoni Questa è un'operazione segreta Ricordate che nulla è lecito Tutto è reale Ci sono telecamere Forse nel basamento o no Perché ho un'aria preservata Magari è roba losca Non vogliono lasciare tracce Ah, mica, c'era la porcellana Io non pensavo se Non era il contrario No, no, nulla è lecito Tutto è reale Oh, non spingere, stronzo Ho fatto tutto il piano perfetto 309-220 Luna, grazie a voi di sei Ben trova per armare Maratino No, aspetta Ah, posto Non avevo letto Meno male che Ok, pensavo di dover premere io Ho fatto, siamo in Grazie a voi Grazie a voi Ti prendo con te Simon, vado a fronte per arrivare Ah beh, non potevano uscire senza codice È stato un piano, una rapina Ben organizzate Qui si vede che avevano informazioni riservate Perché se no non sarebbero potuti uscire Quella era una porta blindata Comunque ora siamo ufficialmente responsabili Di un furto di un'opera d'arte Che vuole la mafia cinese Ah, non ho aspettato questo Per farlo così facilmente Grazie a me, tesoro Batti, batti, dai Batti cinque Ma con chi cazzo pensi di parlare? Ma assolutamente sì Ma sì, dai Non puoi sempre fare lo studente Guardi in sicurezza Andiamo a svaliggiare Una rifruttiva della triade cinese Per divertirci un po', dai Ma quindi ora a chi lo rivendiamo? Scusami, questa porcellana Non ho mai capito Ti piace fare il criminale Eh, leviamoci dei coglioni, dai Sì, ma quindi a chi la vendiamo Questa porcellana Scusami, non ho mai capito Ah, la vendiamo Ah, abbiamo già anche il compratore Ma allora sei deficiente Dillo, sei deficiente Allora lo so Ma cazzo, abbiamo appena fottuto Una porcellana dalla mafia Con un'operazione Che Ocean's 12 Avevati proprio E sei così rincoglionito Va a cascare giù Cavalca via Ma porca puttana Ma questa gente che ho preso con me Per fare il colpo Dove cazzo li ho trovati? Mei Ling Ma chi se ne frega di Mei Ling Prendi la ciotola e concludi l'affare Ti tieni tutto il malloppo Ma che ti frega? Stendila con una gomitata in bocca Prenditi l'intero malloppo Della ciotola Quelli sono morti a posto Miki, grazie per i 9 Mi troverò normale Maddino Ma piove? Sì, sono morti Ma tanto non è che erano nostri amici E li ho conosciuti due ore fa Quindi La ciotola è salva? Ma non è di porcellane È di titanio Ma non c'è Mi sono messo una roba di porcellana in tasca Andiamo a concludere l'affare Siamo a prendere questa bocca di Wu's Per finire la cosa che hai iniziato Sì, ma era il plan, non è? Cosa vuoi fare, Mei Ling? Vuoi restare qui? Mei Ling? Convincila Convincila Dai, ci può essere utile Convincila veloce però Prendila Di peso Come un sacco di patate Dai, Mei Ling Muavi quel culo Minchia Meno male che l'abbiamo presa Perché avevo paura che restassi lì Come uno stoccafisso L'antico vaso andava portato in sal Eh, ti sarà eslogato una caviglia Dai, roba da ridere Mei Ling Perché si è messo così? Perché è un gioco dove devo cliccare Mi sto appolleggiando Come mi avete detto voi Tra l'altro come i veri streamer Che sono sicuri di loro Decisi Sanno che hanno il loro pubblico Anche se si scaccolano E quindi sto facendo Lo streamer affermato Anzi, mi scaccolo Per dimostrare col mio pubblico Lo streamer alfa No, non hai capito un cazzo Vabbè, perché? Continua a non capire Ci serve il signor Wu Della regina ci ha sentito parlare A quanto pare Fai vedere la scella Ma va bene Prendiamo un biscotto Prendiamo un biscotto Vediamo cosa dice Il biscotto della fortuna Avrei Come dice Guiderai sicuro Pensavo Dicesse Avrei un risvolto automobilistico Ma sì Prendiamone uno Vediamo cosa dice Come no Ma io voglio saperlo Scusa ma sei stronzo Ma i biscotti della fortuna Fanno schifo al cazzo Cioè non sono Non è roba mangiabile Cioè fanno schifo roba Togliati la maglietta No, perché c'è il condizionatore addosso Cioè vanno Ma non mi guardi così Però E lei il signor Wu Si è ingriffato Gli aseto ce la vuol mettere nel culo Cazzo ne so Pensavo fosse lo scopo Perché abbiamo un accordo Non ho fatto nessun accordo Non ho mai visto tu prima Guarda Il uomo che ha fatto un accordo È morto, ok? E' per questo motivo Abbiamo portato tu un ballo Come sarebbe? Il mio ballo? Shazam Shazam Chimbe, sei capace Oh, f*** Tanto oramai Noi siamo talmente abituati Oh, cazzo Che palle Managando di stilare il nostro ballo È abbastanza impressionante Ma come? Scusa Ma non era Ma come? Io non ho dato nessun ordine Non a te O a qualcuno Ma? Ma come sarebbe? Non sto più capendo Ma come? Scusa Per un matazzo Per un matazzo Il suo prezzo È beyond measure Ma che cazzo vuole? Ma che cazzo vuole? Gliela ridia? Ora Perché non vuoi tornare qui Perché non vuoi pagare Come ti ho promisciato Non ho avuto Non ho avuto È un'attività L'unica ordine che mi dico È a te Ed è un'attività Che cazzo? Oddio Ho molta paura Obietto Non mica mi sparirà per questo No F*** ti Ma non così Ti traliamo il nostro money E lo conosci Hai fatto un accordo per questo Per l'attività Non lo vogliamo Ciao Non ci riconosciremo Non ci riconosciremo F*** ti Volevo mettere la sottopressione, adesso abbiamo la ciotola, se non ci ammazzano. Beh, abbiamo ancora la ciotola. Adesso il problema è che abbiamo una ciotola a cui... La ciotola è vita. Piano migliore. Piano migliore. Piano migliore. Piano migliore. Ma non pensavo su un piano migliore. Sì, veramente, non è migliore, scusami. Bene. Piano migliore. Ma il piano migliore non pensavo fosse andare dalla polizia. Ma in realtà sono d'accordo con lei, sinceramente. Mi sembra che non è da geniale andare dalla polizia dopo che abbiamo fatto un furto del genere. Allora, andiamo. È un taxi, subito così. L'opzione è che si baciano dopo. Prima ci dobbiamo fidare di lei. Non è che bacia qualsiasi donna a caso, eh. Bisogna vedere se è lei o una di cui ci si può fidare. Stato di fatto che ora non siamo proprio in una situazione ottimale. Anche perché abbiamo una ciotola multimilionaria che la mafia cinese vuole e non abbiamo un posto dove andare. una camera matrimoniale. Stasera inforniamo l'involtino primavera. Sì. 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 Parleranno del furto? Parleranno del furto? C'erano di credere? C'erano di sentire il lavoro? Sì. Sì. Non è quello che ho chiesto. Grazie. E poi per Recon Prime la sub è gratuita e vi schippate anche le pubblicità così non mi perdete i pezzi del gioco. E questo è il marketing. E signorina, si faccia la doccia che cazzo. Oh signorina, madonna, è già ingriffata Signorina, si è già ingriffata La madonna, cioè ci conosciamo da quattro ore Ma sì, dai Probabilmente mi fregherà tantissimo, però, vabbè Sono convinto che mi fotta adesso Sono convinto che mi fotta tantissimo, ve lo dico Realmente avrei rifiutato in un contesto del genere Anche perché ho paura che mi freghi No, grazie per gli otto, metto la baravale, palatino Che cazzo, avevo già il raviolo pronto ad essere infornato E tutti alzi, ma che cazzo Volevo fare il maiale in agrodolce Quello è il tizio che aveva offerto metà della vendita Ah, l'hanno ammazzato Oh F***ing hell I'm not my choice I'm not my choice I'm not f***ing sure This doesn't make sense Spiega, spiega, spiega No, we got him killed by taking it there We're next Did you get out of the city? Yeah Yeah, I agree 100% Are you crazy? How's that? He's going to get us killed We're all happy He's all got one killed Hello Mr. Smear Yeah I have some people in the reception Shall I send them up? There's someone downstairs Eh, come on Eh, mica, sono lì Eh, ma che cazzo Come sono Come sono Sdraiato, scusami Credo che ci abbia catturato adesso alla mafia Così su due piedi Salve Buongiorno Come scusa, non l'avevi in tasca? Non lo so 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 Abbiamo tutti avuto una molto lunga E' arrivato Ma cosa è che si prendono tutti a schiaffi? Non lo so Non lo so Non lo so Ma cosa è che ci abbia catturato? In che senso? In che senso? Siamo nella merda Anche perché Noi non sappiamo Dov'è la quella vera Ma cosa hai fatto con lei? 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 Ma che c'è qua? Noi non ho fatto il tuo proprio spot, ok? Fuck Fuck È un problema questo Sì, certo A parte che quando mai Ma cosa hai fatto con lei Che c'è veramente Questo è un problema È vero È vero Consolver Saberti i nostri Il corto. Io dico il corto perché è lungo, secondo me, è peggio. Il corto. Una rapida morte. Ma dolorosa. Decker non va in più. Ma quando è ritrovato, Bob si tratta di un testo. Si tratta. La morte viene in un uomo. Ho pensato che era veloce. Onde è il ballo? Il ballo originale. Posso trattare a lei per essere riuscita? O si mantiene tranquilla? Perché se si fa questo, si muore. Proteggila. Facciamo i galantuomini, anche se rischio un'inculata. Guarda, ti chiedo genuinamente. Ok, non so nulla. Per uscire l'original per un fake. Ok, ero forse di essere parte della roba. Non avevo scelta. Non c'era nulla. 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 Secondo round, come ho pensato, la ragazza è sempre quieta Gli occhi? F*** È seguendo una strategia? Se avessi questo vero, la malina prende una di queste knife nel stomaco E così dobbiamo Non lo so, non lo so Non lo so, cosa posso dire? Non lo so Cosa vuol dire salvati? Cosa vuol dire salvati scusami E se parlo cosa gli dico? E se parlo cosa gli dico? Boh, proviamo a vedere come succede parla Ve la do Quindi la tua memoria si ritrova? Oh, spero Onde è? Non lo so Ho dovuto andare a prenderla per te Non è sufficiente Non lo so E' l'unica modo che puoi arrivare Non lo so Non lo so Non lo so Mi ha leggermente scassato le dita, ma dai sono solo pollici Sì 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 Vabbè abbiamo bleffato, abbiamo bleffato raga Obietta No, non dico niente perché è il mio ostaggio Beh scusa Ah ma scusa Ma non dovevo le... Ma non... Scusa, mi ha detto... Ma mi ha detto Se non trovate la ciotola la ammazziamo, che vuol dire? Ma... Ma è viva Ma è ancora viva, ha parlato Ma è ancora viva, ha parlato E' Pa E' la persona che ci f***e Ma... Ma non... Non tanto viva, insomma Ma non lo so Perché sono la persona che voleva scopiare Ma... Oh, f***a mi Cosa Cosa? Tanto per andare Non ho pensato che questo sia stato Scusa Ma dove è l'original? Non lo so Ma... Ma tu sei cretino a urlare Where is the original? Appena detto che non sappiamo dov'è Vabbè, tanto la tipa era rincoglionita, quindi vabbè Ha detto che hai sei ore E in sei ore facciamo tempo a prendere un aereo e scappare in Messico Ok, par Dunque Chiamo un taxi e andiamo in aeroporto Abbiamo tempo a traslocare, a cambiare stato sociale A scambiare continente Allora, ma lunga era sei ore La corte era un'ora, c'è andata bene Che f***a mi faccio? Amo veramente facendo questo? F***o di un ricco bastardo Ma par chi è quello del museo? È quello del museo par Adesso dobbiamo riuscire ad arrivare a... Mantieni la calma. Mantieni la calma. C'è la polizia lì dietro, scusami. No, combatti è un problema, mi arrestano. Ragazzi c'è la polizia, sono ricercato. Se combatto mi arrestano. Devo cercare di restare anonimo, non farmi arrestare. Sennò magari una cragnata nei denti anche, ah, anche, ma... Sennò, lì, lì, mi arrestò. S**t. L'autorità, Jeffrey, è quasi strangolato. Lì aveva accesso alla polizia dopo l'exporto su stage. Sennò prima che lo stavamo. Sì, come lo trovo? Dobbiamo trovare il cameriere. Eh no, devo salvare la tipa. Non posso andare in prigione. Eh, è un bortello fare una sintesi adesso, barbino. Leclerc. 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 Fatti i cazzo di tuoi. Non posso fare le visite fino a domani. I civili. Papino può. Ti preoccupare, che papino può. La trama si sta infittendo comunque, eh. Yes, sì, grazie per i sei, baratino. Ventura, fermate. Li rompiamo in The Indy Hospital. Sì, tra l'altro non ne siamo veniti in mezzo a tutto questo. Beh, è stata anche in parte colpa mia, eh. Perché l'ho portato io. Ma chi è questo? Scusa. È che gli dice, è una visita rogente. Non ti fa mica salire. Ma che cazzo di domanda è? Ma è ovvio. Ah, ma è la tipa! Ah, beh, grazie per i dieci. Mi intorno a me per amare, palatino. È la tipa dell'inizio. Insistiamo. Insistiamo. Menti. Non voglio spiegarglielo. Sì, ma una... Menti pensavo a qualcosa di un po' più brillante. Non volevo dire... Pensavo a un po' più brillante. Ragù, grazie per i cico. Mi intorno a me per amare, palatino. Room 7, l'ho visto dal riflesso degli occhiali. Signora Leroy Leclerc, Leroy Leclerc, Leroy Leclerc, Conad. E come entriamo, però? Sì, col cazzo ha aperto la porta, sì. Adesso è in coma e lì fa... Sveglia! Sveglia! Sf. 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 Ma era in coma, come ha fatto? Cos'è successo? Cos'è successo? No, l'ha mandato... No, non l'ha ucciso. Ah! Apre molto il tasto per far intervenire l'infermiera. Sì, ho capito, ma l'infermiera esce subito se vede che è stato un errore. Cioè, non è che ci abbia molto tempo, eh. Coglia. Ah, non era lui. Allora, scusa, che cazzo è servito vedere la stanza? Non ho capito. Eh, che cazzo è servito vedere la stanza di sotto? Potete entrare in qualsiasi stanza, scusa. Forse ho visto il piano. Eh, il piano. Hello? Salve. Già sta morendo, ha il tappo alla bocca. Miore, se ti piace questo gioco, ti consiglio, credo, dalla stessa casa di produzione in The Bunker. La voglio bene ed anche a tutte voi papere e papere armate. Non lo segno, Valentina, grazie a piacere. Continua il bluff. L'ascensore? Oddio, dal retro. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non mi preoccupare, non c'è nulla che puoi fare. non lo so. Non lo so. No, non lo so. No, non lo so. No, non lo so. per diventare un assassino infatti non voglio ammazzarlo ero originale con la forgeria e l'ho sbagliato il cabinetto il cabinetto ha portato un'azienda c'era un compagno segreto, certo? si è qui? c'è un pallo ancora dentro? non lo so, non lo so, non lo so la sicurezza prendeva tutto per la scuola e mi portarono qui all'ospedale scuola quindi è ancora dentro di Haynesworth ragazzi ora sappiamo dove andare il problema è riuscire ad andarci e il badge questo mi portare nel pallo? sì se puoi arrivare nel pallo, sì allora dicevamo ma dicevamo dobbiamo under grazie per i sei mi trova per male palatino così dobbiamo andare alla cassaforte il problema è che la cassaforte sarà sorvegliata da degli oranghi e questo sarà sorvegliata da dei malanza vediamo tutto il film vediamo tutto il film non penso perché mi da l'impressione di essere abbastanza lunghino manca solo delle pringles da potermi smerdare addosso ed è perfetto vuole tanto una pizza che mi smerdo il pomodoro ma come non posso salvare? beh scusami eh no reaction ho fatto finalmente un altro e 10 palatino sta andando sempre più su il problema è che come entriamo nella casa di questo scusami esplora l'entrata esploriamo l'entrata mettiamo un occhio posso aiutarti? no sono bene ho solo ho solo ho solo ucciso il tempo per il mio prossimo appartamento in 5 minuti con lui? mister quinn ok l'entrata è all'interno si faccia i cazzi suoni non ho capito scusami non posso sedermi un attimo ma non ho capito scusami sta diventando Diclet passa la carta aspetta rilassiamoci un attimo almeno non dico tanto ma un filino ecco ah merda eeeh andiamo giù nel basamento in the basement andiamo nel basamento ah il basamento è rotto beh andiamo su che cazzo si il basamento è off limit cosa sto facendo eeeh in piedi con uno stoccafisso scusami ah come sono entrate ho tutta la schiena reclinata scusi eeeh 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 grazie zio vabbè continua però spero che lo faccia veloce perchè sennò mi prendono si ma veloce zio perchè sennò ti pigliano ok eh corri cioè corri via si grazie molto gentile anche perchè penso mi stiano venendo a prendere quindi spero che parcheggio si abbastanza continua normalmente il car park è solo troppo grazie oddio eh zio sembri scemo però cioè cammina normale sembri matto non scopri che quello è Mr. Queen entra di suo piatto se vuoi entrare però muoviti cioè non è che vai direi che forse riusciamo a passare è Netflix no è un gioco è un gioco interattivo ce la dovremmo aver fatta il problema è che come facciamo quando apre il furgone perchè noi dove cazzo andiamo quando apre ci vede e da dentro si può aprire ha capito ma è un po' sospetto dice che è qui dentro eccola la tazza vera adesso il camion in chiodo spacchiamo tutto no com'è fatta ad avere accessi a un cellulare lei è molto sussi il fatto che lei sia riuscita a prendere un cellulare e chiamarmi io la porterei da Choi io la porterei da loro la vogliono così tanto che se gliela porto magari non mi ammazzeranno portarla da par secondo me è quello che l'ha rubata ma è un'idea perché non esiste una risposta per adesso portiamola da loro anche perché loro la vogliono tanto tanto quindi tanto anche se la porto da par par la prende e poi cosa eh se la porto da par scusa par la prende e poi cosa eh la prende lui e poi cosa se il tizio è arrivato addirittura a rubarla era buono che l'ammazzava per logica per logica se poi è tutta una fregatura però la tipo è d'accordo con loro la tipo è d'accordo con loro sicuro è troppo sospetto che sia riuscito a chiamarmi è stato uno sberlo la fabolari la rompe a parte che stava per morire potrebbe anche essere sangue finto non è un film è un gioco stanza 731 perché ha una stanza scusami addio è molto ambigua come cosa io non andrei sinceramente questo non lo so se ci andrei perché perché lei dovrebbe avere una stanza privata e nessuno che la sta sorvegliando questo è sussissimo magari è lei la capa magari è lei la capa di tutto tipo 001 in squid game potrebbe anche essere morta ma aspetta che arrivi Gesù per riportarle in vita ma è viva ha aperto gli occhi mi arrestano per l'omicidio mi arrestano per il tentato aggressione l'omicidio vabbè mi hanno incastrato in poche parole quello è il discorso l'ha fatto apposta in realtà non lo sappiamo non lo sappiamo perché magari lei è morta veramente bellino però bellino io l'ho detto che non sarei andato in camera io l'ho detto non andare in camera perché è troppo una fregatura andare in camera se avesse seguito me si sarebbe salvato ma è stato un pirnati in camera magari l'hanno da parfini ma diverso beh beh comunque è carino è molto bellino come gioco dai non sarebbe dovuto andare in camera della tipa magari è stata una minchiata atomica bellino però dai carino papere io papere io vi ringrazio questa sera per il follow il divertimento le risate noi ci vediamo lunedì alle 21 per una nuova live facciamo reddit e andiamo avanti con Dead Island io vi auguro tanta buona nanna padatini vi mando un abbraccio e un bacione fate buona domenica noi papere ci vediamo lunedì notte papere grazie a tutti a tutti grazie a tutti